Martedì 26 marzo, ancora buon pomeriggio e bentrovati al consueto appuntamento con l'SS Telebari, la rubrica dedicata a tutte le vostre segnalazioni. Oggi in compagnia del presidente dell'AMIU Gianfranco Grandagliano, presidente ancora una volta bentrovato. Buon pomeriggio di nuovo a tutti quanti. Vi ricordo che per intervenire basta chiamare lo 080 501 9998 e sarete subito collegati con noi. Intanto, come promesso, vi facciamo... Io sono ancora qui. Ecco, lei è lì, perfetto. L'importante è che sto chiamando a casa e non dal cellulare. Questo intanto è un modo per risparmiare. Allora, facciamo vedere le fotografie. Allora, qua si riferiscono a due periodi diversi. Sono andati prima della precedente trasmissione, è andato l'ispettore Laghetti con il signor Loconso, responsabile della comunicazione, e poi sono andati pure, credo, l'altro giorno, ieri, se non mi ricordo domani. Forse ieri sono andati, quindi stava pure piovendo. Adesso io dico al telespettatore, se ne può vedere, se noi abbiamo capito la zona o non abbiamo capito nulla, perché così almeno comprendiamo dove intervenire. Cioè, il telespettatore parlava di via Minervini? E questa è la zona per cui interessate, su cui facevi riferimento lì. No, 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 non è questa. Per questo è via Minervini, eh? È proprio la prima, la prima, dove c'è la panda, la prima fotografia. Allora, se torniamo alla prima fotografia, così ci dice bene. È questa qua, questa qua, sì, questa qua, proprio di fronte all'angolo dove c'è il palazzo bianco e grigio. Quel palazzo bianco e grigio, proprio là si mettono, perché vede che noi siamo intervenuti là, da lontano, è ovvio che questa è una foto fatta da lontano, non abbiamo invenuto. Va bene, noi presteremo più attenzione. La mia preoccupazione è che noi non avessimo capito nulla, non so se è chiaro. Però visto che abbiamo individuato la zona e l'ispettore si è recato più volte, presteremo più attenzione e faremo intervenire anche sul punto, in modo tale che così, senza che se lei ci sollecita nuovamente... Se ci sono altre foto, intanto possiamo anche farle vedere, già che insomma ci sono state fornite, facciamo vedere che c'è stato un intervento. Mi pare quindi che vi siate capiti, dopodiché la zona era questa... Ma questa non è questa zona, no? Sì, sì, questa però scendendo più giù, è tutta questa zona. È tutta questa zona. Sì, sì, però di fronte si vedono, sì, scendendo, scendendo verso la strada. Perfetto, quindi lei lamenta il fatto... Sì, questa qua, è proprio qua di fronte, cioè queste macchine sono parcheggiate bene, perché lì ci sono... Le strisce. Le strisce per le strisce, dove si può parcheggiare. Perfetto. Poi le altre fanno di testa loro, però quella è la zona. Vabbè, non si preoccupi, perché la teniamo sotto monitoraggio, eventualmente passiamo, perché lamentava, diciamo... No, perché a passione dal fatto, proprio di fronte al cancello ci sono le strisce pedonali, uno anche se volendo scendere e passare non riesce... No, il problema è un altro, allora dico subito, il suo problema è, diciamo, è comune tra noi come azienda e il problema della Polizia Municipale. Le spiego perché. Perché ovvio che noi interveniamo non è un problema. E il fatto che questi abitudinariamente parcheggiano sul lato opposto dove c'è il divieto di sosta è ovvio che noi non possiamo fare nulla, perché non abbiamo neanche il potere. Ribadisco che noi queste fotografie reggiremo al comandante della Polizia Municipale, visto che o me abbiamo individuato esattamente la zona. Da parte nostra cercheremo di stare più attenti anche di qualche lavaggio, perché mi segnalava molte volte delle azioni canine o comunque gettito di sostanze non, diciamo, malodoranti. Eventualmente faremo qualche lavaggio in più, così come anche la spazzatrice la manderemo. e se il momento in cui troveremo queste segnalazioni di O al Capozone, che è uno abbastanza attivo, le dico sinceramente, è un operativo. Sì, sì, la spazzatrice sì. No, 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 faccio segnalare, se la spazzatrice trova delle macchine parcheggiate, farò segnalare il problema al Capozone per chiamare poi i vigili urbani in modo tale da far intervenire nell'immediatezza, no? Non so se è chiaro. Va bene, va bene. In questo senso. Sì, brevemente, brevemente. Vorrei fare solamente un'altra osservazione. Sì. Di fronte all'ospedale di Venere. Sì. C'è delle palazzine bianche e rosse. Sì. No, c'è tutta un'area abbandonata. Mio papà abita lì, è padrone di casa, e a Vantieri c'è stata una litte con una persona che stava con il cane in mezzo a quei cespugli senza niente. E mio padre diceva, giustamente, non è che noi possiamo sopportare tutte le borse e le cose. No, è stata proprio letteralmente abbandonata. C'è un... ci sono delle grate, ma... Ma credo che quella zona, non vorrei sbagliarmi, ma la zona che fa riferimento lì, che è abbandonata, credo che sia un suolo privato, che molto probabilmente sia stato, diciamo, faccia parte dell'ottizzazione, ma è stato asservito come cubatura alle palazzine adiacenti. Quindi, se è un suolo privato, noi non possiamo intervenire in alcun modo, proprio... Cioè, anche con le direzioni canine non possiamo fare niente, l'altro, ci siamo proprio bloccati, eh. Quindi anche lì, cioè, ci vorrebbero i controlli... Noi ci informiamo sempre per scrupolo... Per scrupolo. Se quel suolo appartenga al patrimonio del comune oppure no, ma ipotizzo che sia proprio un suolo privato. Anche lì ci vorrebbe magari il controllo della Polizia Municipale, anche se, insomma, è difficile trovare degli agenti che poi siano dietro a tutti quelli, insomma, che fanno fare le cacchie ai cani, diciamolo tranquillamente, per strada, in maniera, diciamo, poco civile. Però anche questo è un problema che magari andrà segnalato. Comunque, la ringraziamo per l'intervento e speriamo, insomma, che la situazione volga al meglio. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Buon pomeriggio, Presidente. Buon pomeriggio. Sono Nicola Brescia. Ci siamo incontrati stamattina. Stamantini ci siamo visti. Via Suglia. Sì. Vedi, me lo ricordo. Sì, bravo. L'avaggio dei cassonetti. L'avaggio dei bidoni. Sì, sì. Presidente, mi sono dimenticato di poterci stare in appellamento con lei. Dopo Pasqua è possibile ricevermi? Sì, sì. Basta che contatti la segreteria mia. Io sono a disposizione. La ringrazio. Grazie mille. Intanto, diciamo, la telefonata del telespettatore ci fa, appunto, ci dà così un assist per dire che quindi chiunque voglia può incontrarla. Avrà un ufficio invaso, questo lei lo sana. Non è un problema. Cioè, ascoltare tutti non è un problema. Tanto siamo a servizio di tutti. Naturalmente approfittate anche di questo spazio per contattare il Presidente. Questo è quasi doveroso dirlo. Presidente, andiamo avanti, diciamo, abbiamo parlato adesso di Loseto. Poco distante da Loseto c'è Carbonara. Abbiamo più volte parlato di igienio, macchinario, entrato in funzione in via sperimentale, che però adesso diventerà in qualche modo strutturale a Carbonara. State distribuendo le chiavette. No, abbiamo già distribuito. Facciamo un po' il punto. Quello è il macchinario, igienio, che è stato ubicato davanti alla scuola Diaz, se non mi sbaglio, che c'è un problema di discarica, ce l'ha aperto, una serie di batteri di cassonetti. Quindi abbiamo deciso di posizionare i igienio. Abbiamo distribuito 400 chiavette. Abbiamo iniziato a parlo adesso solamente in una fascia ora dalle 7 alle 10, ma dal 2 aprile saranno eliminati tutti i cassonetti davanti alla scuola Diaz. Rimarrà solo i igienio posizionato dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 23. Quindi evitiamo tutti i cittadini muniti di chiavetta di recarsi in queste fascia oraie e possono conferire in modo differenziato tutti i tipi di rifiuti, anche gli oli esausti e le batterie scadute. Quindi possono conferire tutti i rifiuti in modo differenziato. Quindi abbiamo distribuito queste 400 chiavette. Auspichiamo un ottimo successo, perché abbiamo visto che quando abbiamo presentato l'iniziativa i cittadini erano contentissimi, in modo tale che evitiamo che i bambini quando entri in una scuola trovano una discarica a cielo aperta, uno scempio che è incompatibile con la scuola. Abbiamo un altro telespettatore in linea, pronto? No, sono sempre io. È solo per ringraziare il Presidente per la disponibilità e voi specialmente Tenebari e augurarvi Buona Pasqua. Grazie mille, grazie. Naturalmente gli auguri li avremmo fatti in chiusura di trasmissione, oltre agli auguri di buon compleanno all'Ami, ma anche gli auguri di buona Pasqua a tutti. Ma non lo anticipiamo, perché magari poi abbiamo un augurio speciale in chiusura e grazie naturalmente per il suo intervento, per la sua sollecitazione ripetuta, serve anche questo. Un'altra telefonata in linea, pronto? Pronto? Sono un po' scocciante, se non vi dispiace, Presidente. Sì, sì, prego. Ritornando al fatto delle calitoie. Sì. Ho fatto una disposizione tecnica, che è quella che io ho lavorato per 40 anni, e so, io mi riferisco solo alla calitoie esterna, la pulizia della calitoie esterna, non togliere la calitoie e pulire internamente, perché quello compete alla calitoia di pulire. No, ma il problema è… No, lei ha ragione, la calitoia esterna la facciamo noi, però le spiego qual è il problema, noi la facciamo periodicamente, il problema è… No, no, il problema è che è da parecchio tempo che… Adesso, tanto non si preoccupi, io verificherò proprio la zona e vi faccio anche vedere la frequenza dell'intervento sulle calitoie, però per spiegare, io non sono un tecnico, quindi da due anni non mi occupo solo di queste cose, però diciamo che la parte più problematica non è la calitoia esterna, perché anche se puliamo la calitoia esterna, siccome non è un servizio che può essere fatto quotidianamente, e la calitoia è occupata e interrotta e quindi ostruita dall'interno, ci vuole comunque una pulizia integrale della stessa, se noi non avremo alcun effetto, questo è pacifico, è ovvio che il telespettatore non è che ha tutti i torti, noi interveniamo esternamente, ma il nostro intervento diventerebbe inutile se non c'è una pulizia integrale, è come la disinfestazione, se non viene fatta disinfestazione con lotte fognanti, che noi apriamo il tombino e spariamo il veleno circoscritto, ha un effetto limitato a qualche giorno, poi il problema delle bratte si ripresenterà, è tutto qui il pubblico. Dunque Presidente, visto che stiamo parlando di foglie, voi avete anche avviato un servizio di raccolta di sfalci e ramaglie, come funziona, come sta andando, credo che siano già forse tre settimane? No, due settimane, sono due settimane che interveniamo, abbiamo raccolto in circa 700 chili di sfalci, è un servizio domiciliare dedicato a delle ville per determinate zone, Palese, Santo Spirito, Santa Fara, che abbiamo individuato, ma comunque siamo aperti eventualmente anche a segnalazioni da parte di cittadini, perché è ovvio che qualcuno ci possa essere sfuggito, in modo tale che proprio in questa stagione in cui c'è la manutenzione del Stato del Verde invitiamo tutti i cittadini a raccoglierli e noi ogni lunedì possiamo passare, quindi è un'assistenza, una raccolta domiciliare, abbiamo distribuito anche i sacchi per fare questa raccolta e ogni lunedì passiamo in modo tale da poter raccogliere, questo viene tutto differenziato in modo tale da non conferire nei cassonetti, da non occupare lo spazio nei cassonetti da conferire in discarica, visto che è un materiale che può essere trattato recuperato. Per adesso voi, lo diceva già lei, avete individuato alcune zone che sono quelle diciamo con maggiore presenza di giardini, naturalmente le persone a cui voi avete dato i sacchi devono rispettare anche delle regole. No, è semplicissimo, è solamente lasciarli dalla domenica sera, perché noi lunedì mattina passiamo, noi invitiamo tutti i proprietari di eventuali ville che possono essere sfuggiti, perché è ovvio che può anche darsi che ci sono sfuggite alcune utenze, di chiamare il nostro numero verde, segnalare in modo tale da organizzare il servizio nelle modessime modalità con la consegna dei sacchi e il passaggio di lunedì. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, sono in linea io? Sì, in linea. Buonasera, io mi chiamo Castelli, una domanda soltanto all'Ami o in buona distanza. Il bilancio del Comune prevede 61 milioni di Euro di spesa preventiva per il 2013, la raccolta differenziata mi sembra che sia al 25, 27, 30, quando arriverà a Bari al 70% e quando si spenteranno invece che 61 milioni di Euro, 20 milioni di Euro? Questa è la mia domanda, grazie.